Con grande intensità, arraschiando il barile delle energie, ancora in difficoltà a livello di ruoli sul perimetro, però si inizia a vedere qualcosa, si iniziano a vedere gli sforzi di giocare insieme. Torniamo dopo questa terza amichevole con un passettino fatto in avanti, con la consapevolezza che c'è tantissimo da fare, c'è da migliorare prima di tutto la condizione generale, la conoscenza tra i giocatori, la conoscenza del sistema per quelli che sono nuovi, però secondo me per 30 minuti siamo stati molto bravi in difficoltà tecnica e in condizioni generali molto difficili. Quindi complimenti ai ragazzi, poi nel quarto quarto c'è stato un visibile calo generale e quindi il quarto quarto lo abbiamo perso. La quarta partita di quest'oggi l'abbiamo persa, però insomma, positività.